E' tanto una brava persona, sai? Pensi che danno una pensione che non gli abbasta manco per mandare il canto. Quello alto è di Napoli, quello basso è di Tirecchi. Qual è il tuo? Tutto il tuo. Chi c'è nella mia camera? Tu mi c'è calma, ripostano un minuto. E poi inutile che lei protesti. Lei lo sa che alla fine del mese se ne va. Sarebbe comodo buttare fuori uno così, dopo vent'anni. E non griti! Sta per no! Ciao, ciao! Ciao, ciao!